ciao a tutti sono francesco del tech is made sono qui con il top di gamma di casa samsung galaxy galaxy s 20 plus andiamo alla vedere nella nostra recensione completa ciao a tutti sono francesco del tech is made sono qui con il galaxy s 20 plus che ho preso dopo aver visto un po di di recensione in giro sugli altri due dispositivi che veramente non mi sono piaciuti quindi le s 20 normale che mi è sembrato troppo piccolino e con le fotocamere meno prestanti le s 20 ultra che ha un sacco di bug ho scelto di prendere le s 20 plus e direi che non me ne sono pentito quindi mi sono trovato molto bene come vedete qui nella scatola c'è la classica manualistica in italiano lo spillino per rimuovere la sim poi cos'altro c'è caricatore usb di tipo c se non sbaglio a 3 am per massimo di uscita quindi top con la scatolina vuota classiche cuffie usb di tipo c della k g in iar quindi si sentono molto bene io non le utilizzo che uso le quelle senza fili e il cavo usb di tipo c usb di tipo c non c'è nient'altro quindi la scatola molto molto libera di da altro avrei preferito che samsung inserisse almeno un una coverina anche se arriva già con una simil pellicola installata sopra proprio per evitare di inserirne una che non funzioni con il lettore di impronte una breve carrellata sulle caratteristiche tecniche display da 6,7 pollici amoled con risoluzione vqhd quindi wide qhd quindi risoluzione 3200 per 1440 in formato 20 noni ed è proprio questo che mi è piaciuto di questo dispositivo essendo in 29 noni più allungato e si tiene in mano sebbene il display sia da 6,7 pollici debutta il 120hz quindi una fluidità pazzesca display cpu dietro che posiziona in questa zona e scalda un pochettino che un exynos 990 di proprietà di samsung il ram 8 giga di ram c'è anche la versione da 12 giga lpddr 5 la memoria interna 128 256 512 tipo ufs 3.1 espandibile tramite il carrellino che c'è in alto dove c'è anche la dual sim ma c'è anche la e sim la fotocamera frontale che vedete incastrando in questo cerchietto anteriore piccolissima di 10 megapixel che una sony mx 374 che permette registrazione in video fino in 4k a 60 fps c'è la versione 4g che la mia c'è anche la versione in 5g che è opzionale costa un po di più bluetooth 5.0 nfc gps nfc posizionato qui nella parte un po più in basso usb di tipo c 3.1 e come vedete nella parte inferiore non c'è il jack neanche nella parte superiore quindi perde il jack il primo top di gamma che perde il jack batteria da 4.500 milliampere con ricarica inversa e ricarica veloce a 25 watt certificazione ip68 162 mm 74 quindi più sottile millimetri e 7,8 ho lasciato per ultimo il blocco fotocamera perché piace non piace a me non piace questo blocco quadrato stile cannone che è il trend purtroppo di questo 2020 costo cannone con 4 5 6 7 10 15 fotocamera che a me non piace piace più quello centrale oppure a filo però non tutto si può avere dalla vita le sensori sono 4 12 megapixel principale 12 megapixel anche esso il grandangolo che un samsung iso cell quindi proprietario zoom ottico 30 per che arriva fino al già le 30 per per il sensore principale che alla fine è quello che viene utilizzato quando si fa lo zoom che da 64 megapixel poi il sensore ti offi per effetti bouquet profondità tutto il resto android 10 metodo di sblocco faccia molto lento e non mi piace è migliorato anche se migliorato rispetto alla precedente versione galaxy s 10 note 10 plus tutto il resto il lettore d'impronte sotto display è molto più veloce invece rispetto agli altri configurazioni 828 in 4g 1029 euro poi tutte le altre versioni sono in 5g 12 giga ram 128 giga di memoria interna 1129 quindi 100 euro in più sempre in 5g 12 giga ram e 512 giga di memoria interna prima ho detto forse regolamenta anche 256 1279 quindi ancora un ulteriore salto direi che sono troppi va bene il 4g con 128 giga l'espansione di memoria e vitolia del pensiero anche per lo street price di questo qui è sceso già sotto gli 800 euro abbondantemente diciamo che vale tutti i soldi ben spesi a livello di design abbiamo parlato davanti è piacevole si tiene bene in mano è stretto non c'è l'utilizzo con una mano però insomma se faccio un po di di fatica riesco ad arrivare io che sono le mani neanche tanto grandi funziona abbastanza bene anche con una mano di contro ha un grip che veramente se non utilizzare una cover tende a scivolare anche se ci avete le mani un po più umide perché è bellissimo le colorazioni forse di questo di questi s20 quest'anno non mi piacciono questo nero lucido trattiene un sacco le impronte il grigio è un grigio molto spento forse il bianco quello azzurrino quello è il più bello però insomma non non sono questo che anche probabilmente tra qualche mese vedremo qualche colorazione più inedita come rossa o gialla vedremo se samsung le tirerà fuori dal dal cilindro sicuramente come vedete rispetto agli altri è cambiata leggermente la finitura laterale che adesso è totalmente in alluminio però a questa curvatura laterale che permette di dare una specie di continuità al dispositivo forse adattandola sul retro questa curvatura per tenerla meglio in mano e ovviamente perdendola sulla parte superiore perché adesso la curvatura è veramente minima quasi assente forse questa è la novità in più rispetto come vedete il sensore anteriore non mi riconosce quasi mai se non sono quasi perfettamente davanti va bene che ho il cavalletto della fotocamera con cui sto registrando però veramente non mi piace capisco che sensore in 3d avrebbe occupato più spazio e tutto il resto però non lo so c'è ancora qualcosa che non mi piace in questo metodo di sblocco che veramente non non mi piacciono a questo punto provisco un bel sensore posteriore che è la presa naturale che sono velocissimi ormai quindi l'avrei aggiunto pure sul pulsante laterale non lo so vediamo non c'è da rivedere questi metodi di sblocco che sono un po più lenti macchinosi e non sono neanche sicuri come vi dicevo perde la porta jack da 3,5 mm non c'è più il non c'è neanche il sensore di sensore infrarossi che ormai si è un trend che si è perso e l'audio stereo complice una cassa nella parte inferiore e una piccolissima nella parte anteriore che vedete incastonata veramente c'è un piccolo gradino non so neanche se si riesce a vedere vediamo la schermo acceso forse si nota qui c'è un piccolo gradino che è la cassa anche superiore quindi il suono come al solito è molto 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 buono ma il vero fiore all'occhiello è il display ovviamente tutte le features che ci sono sono con schermo notte giorno sono tutte ormai quelle che troviamo in le gesture che troviamo tutte sulle one o i che è l'interfaccia di grafica di samsung ormai ben studiata come vedete io ho impostato adesso la frequenza a 60 hertz e la frequenza con cui le immagini si aggiornano sullo schermo quindi andando ad aumentare a 120 hertz si ha una fluidità veramente senza precedenti lo notate veramente vistosamente questa fluidità rispetto ai 120 hertz ai 60 hertz basi 120 hertz si notano tantissimo anche se la batteria ne risente a fine giornata di un 15 per cento ho fatto un paio di test veramente interessanti e vi pubblico poi gli screenshot sull'articolo che trovate qui sotto in descrizione degli screenshot che ho preso per quanto riguarda il consumo della batteria che non è un battery phone ci arriva da sera se non lo utilizzate tantissimo quindi vi assicuro che non è un super dispositivo in più si è attivato anche il 120 hertz ci ho speso più di 1000 euro non lo attivo che fai io ce l'ho disattivato per esempio perché è una feature che non mi interessa tantissimo però c'è e la utilizzo ovviamente quindi però giusto per fare il figo fluido e fluidissimo apriamo come al solito tutte le varie i vari social per farvi vedere com'è bene e ovviamente adesso con le gesture che di solito mi trovo sempre bene adesso per fare il video mi sono trovato come vedete non si vede nel video perché è un po' più la frequenza di aggiornamento più lenta però è veramente una goduria per gli occhi andare a vedere questa fluidità pazzesca che si ha navigando nei vari menu non un rallentamento non un lag solo qualche piccolo qualche piccola qualche piccolo tentennamento quando si aprono le applicazioni ma veramente rarissime volte si non si impunta mai è velocissimo scalda discretamente ma solo nelle lunghe sessioni di gioco quando dico lunghe oltre 20 minuti quindi se siete veramente della sfida giocatori dovete fare delle parti non sentirete neanche il riscaldamento superiore ho notato in questi mesi un utilizzo della batteria veramente fastidioso soprattutto in stand by perché in stand by mi andavo a consumare un 2% ogni ora fermo lì andavo a consumare un 40-50% durante la giornata anche in questi momenti lockdown dove veramente ho utilizzato il telefono pochissimo consumavo il 60% senza niente per fortuna con questa modalità dinamica della batteria e vediamo se la vado a trovare che è un discorso intelligente di Samsung va a ottimizzare la batteria anche in base all'uso sì però le prime due settimane sono veramente frustranti perché veramente la batteria vi durerà pochissimo se notate dopo le prime due settimane vi darà un fastidio enorme tra l'altro non trovo neanche risparmio energetico adattivo questo qui io l'ho messo su ottimizzata andate a vedere perché andando a girare tra queste opzioni e disattivando il risparmio energetico adattivo forse la batteria durerà un po' meno in base ai vostri utilizzi però certe volte mi andavo a consumare veramente il 2-3% ogni ora stando fermo quindi io l'ho tenuto lì fermo una giornata magari e ho consumato il 60% di batteria il 40-50% non va bene perché così due giorni di stand-by praticamente Samsung deve fare qualcosa anche per ottimizzare i consumi di questo top di gamma ed è proprio il sistema proprietario di Samsung a fornire la CPU più... e purtroppo da noi arriva sempre la versione con il processore Exynos che è proprietà di Samsung questa per scelte commerciali ovviamente perché in America viene venduto con lo Snapdragon 865 che per molti aspetti è migliore, integra un chip 5G più veloce, una frequenza di aggiornamento migliore e tutto il resto anche quest'anno da noi arriva la versione con Exynos che si distingue ben poco rispetto allo Snapdragon però lo Snapdragon c'è sempre quella funzionalità in più, quella ottimizzazione in più a livello di consumo di batteria sembra un po' più esoso come batteria quindi non so perché Samsung continua a puntare sempre, vabbè ovviamente continua a puntare sempre sul suo hardware però sarebbe meglio che integrasse anche i dispositivi che funzionano meglio quindi lo Snapdragon per esempio ha, soprattutto nel 5G, in Italia non ci sono le reti 5G SA di tipo GSA, LNSA, LNSA che non fanno uso delle altre frequenze, i miliweb che non sono sopportati da questi chip Samsung mentre i Qualcomm ce le hanno quindi anche se comprando un dispositivo 5G supportato adesso, anche gli S20 magari con la diffusione del 5G in futuro non potrete sfruttare al massimo la potenza per esempio queste onde corte, le onde ad alte frequenze permettono di prendere meglio nei centri commerciali, nei dispositivi al chiuso quindi la ricezione è ottima di questi dispositivi però se compri un dispositivo 5G non potreste sfruttare appieno le potenzialità della nuova rete quindi il mio consiglio è non comprare un 5G adesso, un Samsung e un S20 e totalmente, se veramente soldi spesi male o comunque poco male perché comunque non avreste reali benefici per almeno i prossimi due anni quindi aspettate S30 o quello che sarà S21 non lo so, vediamo quale diavoleria di nome e numero si inventerà Samsung però per quanto riguarda la connettività vorrei, io vorrei lo Snapdragon anche qui perché ho provato altri dispositivi di Snapdragon mi sono trovato benissimo sotto tutti i punti di vista anche per quanto riguarda il consumo di batteria su questo S20 Plus un pochettino deficita quindi non mi piace adesso ho sposto la scatola per prendere il mio Surface 7 Pro che lo utilizzo come banchetto di prova per una delle feature che veramente mi fa impazzire mi piace tantissimo anche perché è veramente una funzionalità che utilizzo abbastanza spesso quindi è la Samsung Dext che mi piace tantissimo ma vedete ho sbloccato l'impronta di gelare anche al rovescio quindi vi confermo che funziona tranquillamente anche al contrario scusate se ogni tanto mi vengono queste influenze del sud quindi come vedete io ho avviato l'interfaccia Dext che mi piace tantissimo perché veramente vai a sfruttare le potenzialità del display del Samsung in tutta libertà quindi mi piace tantissimo, è ottimizzata qui vi faccio vedere le foto funziona molto bene vado a fare del video editing sul dispositivo è come sia avere un mini computer quindi ovviamente tutto adattato mi piace tanto perché comunque si apre tutte le varie finestre come Samsung ho anche qui un piccolo menu che mi richiama tutte le applicazioni è veramente fatta bene mi piace tantissimo sembra come sia di avere un piccolo dispositivo un piccolo dispositivo da utilizzare per tutti gli utilizzi però con tutta la comodità di avere uno smartphone un cavetto e potenzialmente qualsiasi televisione con presa HDMI o una USB di tipo C di nuova generazione questa è una feature che mi piace tantissimo tutti i Samsung ce l'hanno anche dall'S10, l'S9 però con il corso del tempo è stata migliorata non vi nascondo che la utilizzo veramente tanto perché soprattutto c'è un monitorino esterno di dimensioni abbastanza generose e funziona veramente bene su questo S20 mi piace tantissimo perché posso montare veramente anche i video con un semplice tocco sul display è una funzione che non viene utilizzata da tutti però chi la utilizza ne è rimasto veramente entusiasta poi il software è sempre migliorato di versione in versione quindi come vedete io ho collegato al mio Surface un cavetto USB di tipo C e il gioco è fatto quindi questa è un'altra funzione che veramente mi è piaciuta tantissimo che utilizzo di frequente cosa è rimasto? il comparto multimediale come vedete adesso andiamo a riaprire Asphalt e veramente voi non lo notate però a video si nota tutta la fluidità di questo dispositivo è veramente incredibile mi piace veramente tantissimo e la fluidità è 120 Hz e si fa sentire ho consumato già un 2% facendo la recensione quindi come potete vedere è comunque sempre ben esoso di energia elettrica adesso qui il display è una goduria ragazzi cioè il foro nel display poi è integrato benissimo perché ci sono varie funzioni che ti permettono di sfruttarlo al massimo e che non diventi veramente invasivo adesso vi apro anche un filmato 4K HDR che è il top vedete questo che va per la maggiore e lo metto a tutto schermo giusto per farvi vedere quanto incide quel foro nel display è veramente pochissimo e mi piace veramente tanto 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 come si vede è una godura il display di Samsung sono il top di gamma poi nell'uso quotidiano veramente lo notate a tutto lo noterete grandissimo questa fluidità questa piacevolezza nell'utilizzo normale quindi l'ultima cosa che è rimasta sono le fotocamere è inutile e sono anche il top anche in questo periodo l'applicazione è sempre molto completa sempre attuale ha un sacco di funzioni lo zoom arriva fino al 30x con poca perdita comunque di qualità è sempre interfaccia è sempre attivabile tramite tocco da veramente vai a trovare l'impostazione giusta in pochi tocchi c'è questo slide che è rimasto che è sempre molto veloce dove posso andare a selezionare la versione pro che mi permette ovviamente di andare a selezionare l'apertura l'iso l'esposizione il fuoco il bilanciamento del bianco andare a gestire insomma queste sono tutte funzioni da pro che meritano sempre un'attenzione particolare poi esistono altre funzionalità dell'app fotocamera che ovviamente sono quelle standard quindi la funzionalità automatica per fare panorama per scattare cibo modalità notte la modalità notte è ancora qui un pochettino da lavorarci Samsung dopo tutto quello anteriore sono rimasto molto deluso fuoco live video pro super slow motion a 260 fps una roba mostruosa la hyperlapse i video 8k è una feature che c'è sì se la utilizzate ma veramente poco forse solo per fare le istantanee di video 8k che sono veramente fantastiche con una qualità incredibile mentre 4k e 60 fps sono il top che si possa avere nell'ambito della fotografia super stabilizzati e tutto fotografie di giorno e scatto singolo ottimizzato per i social network sono le altre funzionalità ma come scatta? come scatta? scatta benissimo qui stavo facendo le foto al suo gemellino dello scorso anno il Note 10 Plus molto bene di giorno sono veramente fantastiche le foto mentre di notte come vedete questo è un video fatto con una leggerissima luce frontale che non va bene qui anche gli scatti non so già c'è rumore sul mio viso qua c'è sempre una leggera luce frontale mentre indietro si fa fatica anche a distinguere le varie qui è totalmente al buio quasi sempre perché si vedeva un po' e non si vede neanche la mia faccia qui con una leggera luce frontale insomma entra in difficoltà soprattutto con la luce frontale dove veramente sono non sono deluso diverso discorso per i sensori posteriore qui erano veramente c'erano quattro luci sono al terzo piano si nota pochissimo si nota veramente poco rumore nella foto quindi va benissimo questa è la foto della luna dove vedete che è stata comunque scontornata abbastanza bene ed era veramente così luminosa vi assicuro era quella notte della super luna quindi c'era un cielo impressionante qui ho provato le varie funzioni quindi fino ai 30x sono arrivato a questo punto che è un po' innaturale forse i Huawei P40 anche i P30 fanno meglio però hanno software in gestione intelligenza artificiale particolare non era così gialla ma era più così quindi al 30x va a distorcere parecchio le macro escono bene di giorno o niente non ci sono paragoni per nessuno quindi come vedete qui il cielo era completamente libero sembra spaziale questa fotografia veramente bella ho fatto diverse foto e ho notato anche questi 5 puntini che vagavano nel cielo insieme a me non ero un ufo ma sembrava un difetto della fotocamera quindi non sono riuscito a spiegarmelo non sono trovato in tutte le foto che ho fatto di notte questi 5 puntini maledetti tra l'altro ho scritto un articolo dedicato ma non ho trovato una risposta né da Samsung né da altri quindi sarà un problema della mia mano insomma queste le foto fotocamera anteriore di giorno sono spettacolari non c'è veramente un qualcosa da andare a far soffrire la fotocamera anteriore di giorno escono spettacolari queste sono una serie di foto fatte con il grandangolo il sensore principale quindi questo zoom 10x questo è uno zoom a 30x di giorno va bene cioè questa è la finestra qui si nota ma che è una finestra c'è una delle persiane si nota quindi di giorno vanno benissimo non so se scatterete mai 30x perché una foto del genere veramente è orrenda da andare a girare più una cosa per farti il figo con le persone che vedi con gli amici per far vedere che vedi le persone lì ma non riconosci altro quindi che dirvi le macro escono benissimo si vede benissimo è un dispositivo che gira bene sotto tutti i punti di vista fotocamera è top sono solamente deluso da due punti di vista la fotocamera anteriore è notturna dove c'è ancora molto da lavorare e la batteria soprattutto è stand by non può consumare un 30-40% quando è stand by di giorno Samsung deve fare qualcosa perché comunque c'è qualcosa in ottimizzazione software che non va per il resto è un dispositivo top in tutto secondo a nessuno io tra i tre disponibili ho scelto l'S20 Plus un po' per vedere in giro che cosa qual è un top di gamma medio tra quelli top scelti quindi l'S20 che è fatto da S20 S20 Plus S20 Ultra l'S20 Plus 4G è la scelta migliore ve la cavate con 720 730 750 euro per la versione 4G e comunque sotto gli 800 euro è lui il vero re da battere se OnePlus 8 Pro fosse costato 800 euro probabilmente sarebbe stata una lotta a due e forse l'avrebbe vinta OnePlus quest'anno quindi brava Samsung però lavora un pochettino di software per andare a migliorare soprattutto il consumo della batteria e qualche piccolo trucchetto magari software sulla fotocamera anteriore che non guasta mai un saluto a tutti da Francesco di Autekizme di Autekizme di Autekizme di Autekizme